Il Consiglio della Camera di Commercio di Napoli ha approvato all'unanimità il bilancio di assestamento 2023 e un pacchetto di finanziamenti legato alla realizzazione di bandi camerali per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro. Nella seduta di ieri sono stati recepiti i provvedimenti della Giunta Camerale in ordine al rilancio dell'economia locale e delle imprese di Napoli e provincia. Rispondiamo con i fatti a chi da un osservatorio ormai distante dalle reali esigenze delle imprese prova a gettare discredito sull'ente camerale, sull'azione politica messa in campo fin dal mio insediamento, ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. Stanziamo circa 38 milioni di euro che vengono messi a disposizione delle imprese e non di chi sostiene di averne la rappresentatività. Una rivoluzione copernicana, aggiunge Fiola, iniziata quando ci siamo insediati e che ha dato un taglio netto a un passato di opacità e malagestione, evidenziato anche da quello che le cronache hanno raccontato. I soldi delle imprese ritornano alle imprese, conclude Fiola, nei settori nevralgici come ad esempio il turismo per il quale abbiamo studiato anche un progetto Ischia per consentire alle attività commerciali dell'isola di rimettersi in piedi dopo i tremendi recenti accadimenti. I fondi che saranno inseriti in appositi bandi saranno così ripartiti, 2 milioni di euro per l'internazionalizzazione, 5 milioni di euro per il sostegno al credito, 10 milioni e mezzo di euro per l'adeguamento tecnologico di cui 1,7 è dedicato alle aziende dell'isola d'Ischia, il bando per il turismo che conta 10 milioni e mezzo di euro, 1,5 per l'isola d'Ischia, quello per le associazioni datoriali 1,8 milioni euro, il PID 3,450 mila euro, il bando per la valorizzazione della cultura napoletana 1,5 milioni di euro e infine Illuminiamo Napoli 3 milioni di euro. Nel corso della riunione del Consiglio Camerale si è provveduto anche a nominare due nuovi consiglieri, Marco Cacciapuoti in rappresentanza del settore commercio e Fabio De Felice in rappresentanza del settore trasporti e spedizioni.